Le GPS sono una banca dati digitale dei titoli dei docenti, il cui acronimo sta per graduatori e provinciali supplenze. Nella prima fascia delle GPS possono inserirsi i docenti con abilitazione e quindi con diploma magistrale o laurea in scienze della formazione primaria, mentre la seconda fascia è riservata agli studenti del terzo, quarto e quinto anno del corso di laurea in scienze della formazione primaria che abbiano assolto rispettivamente 150, 200 e 250 CFU. Nella prima fascia delle GPS può inserirsi chi è abilitato nella classe di concorso per la quale partecipa, mentre la seconda fascia è riservata a chi è in possesso del titolo di accesso prescritto per la classe di concorso più 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche, chi è in possesso del titolo di abilitazione su altra classe di concorso o altro grado, chi è già inserito nelle graduatorie di istituto per la stessa classe di concorso. Grazie. 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 Grazie.